Allora c'è un altro problema questi giorni che sbarcano a migliaia, non a decine, sbarcano a migliaia e tutti se poi quei altri lo mettono i carri armati, i francesi non li vuole, nessuno li vuole e cosa si fa? Cosa facciamo? Allora fa presto l'Austria a dire che non li vuole, la Germania non li vuole, l'Inghilterra non li vuole, ma noi abbiamo un paese che geograficamente è in mezzo al mare, la lontananza che c'è tra la Tunisia, tra la Libia e noi sono distanze brevissime e quindi è facile poter sbarcare. Allora le soluzioni sono alla Salvini, bisogna mandarli da ritorno, ma mandarli da ritorno non è una cosa, cacciare l'altra sera alla 7 che è una trasmissione con la Gruber ha fatto una proiezione, ha detto se andiamo avanti di questo passo noi tra 10-15 anni abbiamo il 30% della popolazione immigrata, è una guerra, è una guerra senza armi, questa veramente credo che sia una guerra senza armi, ma cosa facciamo? Quando c'è una nave con su le donne incinte e i bambini? Tiriamo una canonata e buttiamo giù tutto? Forse gli inglesi qualche anno fa lo avrebbero fatto, ma oggi io non so, io dico la verità, capisco che tante zone non li vogliono ospitare, io posso anche capire, ma questo è un fenomeno di una gravità incredibile, ragazzi non si può, con due parole bisogna mandarle a casa loro, bisogna mandarle a casa loro, quando si sbarca a centinaia, le navi non si possono bloccare perché c'è una delibera internazionale, per cui una nave di qualsiasi nazione che abbia a bordo per esempio un ammalato grave che sta per morire deve essere ospitata nel porto che chiede di dire, quindi sai, su tre donne incinte che dice che le partorisce, quelli chiedono di attraccare a Genova e attracca, quindi non è un problema, ma il governo deve fare così, ma la polizia deve fare così, è una cosa molto importante perché quando arriva una massa di persone, io non lo so, veramente non lo so, poi noi italiani, sapete noi italiani, però c'è tutta l'organizzazione, si dice che sono pagati, che ci sono queste organizzazioni internazionali che li vanno a prendere, allora la soluzione del Tamanini l'è una, o si va a occupare la Libia e lì si impone la dittatura della Francia, della Germania, dell'Inghilterra e dell'Italia, si va giù con un esercito, non so dire, un'organizzazione militare, si occupa la Libia e non sbarca nessuno, e se no, come si fa? Bisognerebbe andare sulle coste e sparare ancora prima i barcoli, ma questi qui li gonfiano all'ultimo momento, io credevo che fossero questi gommoni che fossero sulla spiaggia già pronti, invece no, vengono gonfiati all'ultimo momento con delle bombole speciali, non so dire, e vanno fino a un certo punto, a un certo punto sono in pericolo e ci sono le navi, quindi c'è tutta un'organizzazione, ma organizzazione o non organizzazione è un problema, è un'invasione e come si risolve questo problema? Io lo chiedo a voi, giunti a questo punto io sono molto perplesso, ecco, molto perplesso perché i preti, perché i preti, perché il Papa, l'accoglienza, quegli altri non vogliono l'accoglienza e cosa si, li buttiamo amare, perché le soluzioni sono due, o li lasci sbarcare e poi sarà quel che sarà, o se no quando ti vedi in barconte e sbari dentro, li vanno tutti e voglio fare qui 5, 6 barconi, 800 al colpo e il problema l'è risolto, soltanto che io non me la sento e credo che nessuno di voi si sentirebbe di far sparare sul barcone dove ci sono dei bambini. Bill Gates intelligentemente è giù in Africa che cerca di aiutare, noi dovremmo fare questa manovra, noi dovremmo aiutare quelle popolazioni. Però io sono stato a New York, abbiamo già fatto una trasmissione su New York e New York mi ha lasciato senza fiato, perché di bianchi a New York sono pochi di bianchi, è tutta gente di colore, zalda, verda, come volete voi, ma non sono bianchi, bianchi sono pochi e quel che vedeva a me mi sembrava sempre che aveva la leucemia, invece era bianco, perché sono tutti di colore, allora non è che qui da noi succederà la stessa cosa, non è che questo fenomeno avverrà anche da noi, in America la cosa è diversa, ci sono dei controlli a monte, quando la gente sbarca deve avere il posto di lavoro, però per arrivare in America non è così semplice come arrivare dalla costa libica in Sicilia, sì o no? È colpo di mano, quando c'è il mare piatto in poche ore, ti parti dalla Libia e arrivi là, poi ci sono dietro le organizzazioni evidentemente, ma ripeto, secondo il mio parere è un fenomeno al quale noi ci dobbiamo gradualmente abituare, mi sbaglierò, ma vedremo.